Ciao ragazzi, forse non è freddo, spero che vi piaccia. Io qui ho 5 carte, ok? 5 carte composte da cosa? Tutti jolly, ok? Jolly che lasciamo qui. E qui abbiamo invece tutte carte diverse, ok? Jolly e carte diverse. Ora, semplicemente, viene così, ci si concentra, è già successo. Cioè, cosa è successo esattamente? Che se io apro le carte davanti ai vostri occhi, sono sempre 5, sì ma, sono i jolly però. E qui passano le nostre. Ciao ragazzi, non ci sono qua.